Partiamo dalla politica perché in sette mesi di mandato la regione Molise avrebbe cambiato passo rispetto alla gestione passata, quella del governo guidato da Paolo Frattura, così il presidente della regione Donato Toma si è pronunciato oggi in conferenza stampa, nella conferenza stampa di fine anno attorniato dai componenti dell'esecutivo regionale, tutti gli assessori ad eccezione di Nicola Cavaliere assente, presente appunto anche la struttura tecnica della regione, ma vediamo nel dettaglio il servizio. Il presidente della regione Donato Toma si è presentato in conferenza stampa di fine anno con la squadra degli assessori quasi al completo per tracciare il bilancio dei primi sette mesi di attività politica e amministrativa alla guida del Molise. Un arco temporale piuttosto breve, ma a detta del governatore già colmo di risultati ottenuti che serviranno a rilanciare un territorio in difficoltà. Per lasciare intendere che il cambio di passo rispetto al suo predecessore c'è stato, Toma ha snocciolato una serie infinita di numeri per dimostrare che il gap con il passato è stato già in parte recuperato e per rispondere alle critiche che gli sono piovute nelle ultime ore dalle opposizioni. A partire dal Movimento 5 Stelle fino ai due consiglieri regionali del Partito Democratico, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli, che hanno accusato Toma di essere affetto da annuncite acuta. Tabletta alla mano Toma ha elencato tutti i risultati a suo dire già raggiunti e che in molti casi sono legati proprio all'essere riusciti a recuperare, impegnare e certificare fondi bloccati dalla gestione frattura. Abbiamo dovuto recuperare ritardi di circa 4 anni, specialmente sulla spesa comunitaria, e quindi abbiamo dovuto lavorare 6 volte di più, considerando che l'abbiamo fatto in un semestre, anzi 8 volte di più rispetto al lavoro normale. Di questo devo dar merito a tutta la struttura, all'aggiunta, e per la verità anche i consiglieri che per quel che potevano ci hanno dato una mano. Abbiamo recuperato sicuramente 20 milioni di euro che ci davano già per perdute, per persi, siamo riusciti a rendicontarle, l'ultimo rendiconto a ieri, abbiamo avuto il placet della piattaforma dell'Unione Europea, chiaramente ci potrebbero essere anche delle rendicontazioni che non vanno a buon fine, ma siamo abbastanza di sopra dell'obiettivo. Tra i temi affrontati quello della ricostruzione post-sisma, per la quale Tom ha sbandierato l'erogazione di 27 milioni di euro, alle imprese edili e 17 milioni di euro ai comuni per il rischio sismico e per il funzionamento degli uffici COC, mentre sull'emergenza post-sisma di agosto e sulle attese legate al contributo di autonoma sistemazione si è così espresso. È possibile capire se il Governo ha dato questi fondi alla Regione e se questi fondi verranno erogati ai comuni per le famiglie? Per la verità non solo li ha dati alla Regione sulla contabilità speciale, io ho firmato il piano di interventi definitivo e ho dato disposizione alla struttura di pagare, dovrebbero essere in pagamento. Fondi ma anche progetti in corso di evoluzione sul potenziamento infrastrutturale, tra questi la zona economica speciale adriatica, con l'annuncio dell'elaborazione del piano strategico a supporto dell'area portuale di Termoli, passato ora al vaglio del Ministero competente. Un lavoro concluso in tempi record e ha aggiunto il Governatore, prima di regioni più accreditate come l'Abruzzo, la convenzione da 80 milioni di euro con RFI per l'elettrificazione della rete ferroviaria Campo Basso Roma e il completamento dell'acquedotto molisano centrale, un riferimento anche alla crisi dell'editoria con le pressioni insistenti fatte dal Molise all'indirizzo del Governo nazionale per non penalizzare il settore con l'annuncio della necessità di riscrivere la legge regionale sull'editoria perché quella tuttora in vigore ha incalzato Toma, non è adeguata. Infine la sanità è il tema su cui resta aperto lo scontro con il Governo centrale e resta soprattutto la diffidenza verso il neocommissario ad Actangelo Giustini che Toma evita di nominare ma con il quale ancora non c'è stato un incontro ufficiale. L'obiettivo di uscire dal piano di rientro dal disavanzo sanitario ormai prossimo ha spiegato il Governatore ma è un peccato che i meriti andranno a qualcun altro.